Tanto una qui e una qui molto bene ok ciao tesoro buongiorno buongiorno come hai dormito? si mi sono svegliata un pochino prima di te e sono già pronta e visto che però siamo in anticipo per il nostro appuntamento volevo chiederti se ti andava che ti facessi un po' di skin care e che ti truccassi un pochino ok ah perfetto ne sono contenta mi fa proprio di coccolarti coccolarti un pochino ah perché appunto quando li lego facciano questo mix che mi piace tanto ti piacciono? vabbè so che tu non ami questi colori però comunque ok va bene adesso adesso prima di cominciare come al mio solito voglio accendere una candela questa questa secondo me rosa è un po' sporca senti è perfetta è perfetta per la mattina perché appunto sa un pochino di pulito fa di ti auguro una buona giornata ok ok va bene allora accendiamo questa per dare un po' di profumo a tutta la stanza ok 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 allora vediamo dove posso metterla mi sa che la devo mettere qui dietro allora poi prima di cominciare sempre volevo chiederti se volete qualcosa da bere o sai cosa è una cosa che secondo me ti piace tantissimo da quello che mi ricordo aspetta o o del succo di mirtilla non ti preoccupare questo l'ho aperto ieri sera quindi non è aperto da tanto che tra l'altro fa sempre bene è pieno di di assedanti che 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 cosa può se lo vuoi metto tu e se ne vuoi dell'altro qui ce n'è rimasto ok attenzione solo che sai che il succo di mirtillo si lava quindi presta particolarmente attenzione a non versartelo addosso ok allora io partirei appunto lavandoti un pochino il viso ho ho questo latte detergente per pelli sensibili della farmacia e latte detergente indicato per pelli sensibili riformulati con altri sensibili selezionati per un'allevata tollerabilità cotanea buon attore buon attore molto buono ok ok allora vado a prendere un dischetto eccoci qua allora allora metto due pumps di prodotto distruggisco un po' ok distruggisco un po' e vado un po' un po' un po' sotto il viso sotto il viso sul colino sotto il viso ok ok adesso con un altro un pannettino invece un po' umido vado a rimuoverlo un po' un po' per temporare il viso ok molto bene molto bene adesso che il tuo viso è lavato vado vado abbassarti un po' il tonico che non mi ricordo dove ho messo aspetta un attimo questo è un tonico travel size molto molto comodo anche quando appunto devi viaggiare comunque sei in giro devi scusarmi si respira un pochino male ma ha un leggermente raffreddore. Non ho idea sia allergia o altro. Allora, vado a metterle un attimo qui e poi vado a tamponare delicatamente il tuo cuore e vado anche un pochino a picchettare. Per stimolare che non ci scorsi, che viate. Adesso che anche il tonico si viene assorbito sul tuo viso. Volevo farti fare due maschere. Una è una maschera in tessuto per il contorno occhi. E un'altra maschera in tessuto invece per il viso. Per fare questo ti tiro su un attimo i capelli prima. con queste due mallette. Ecco. andiamo qui Ok, adesso vi faccio un po' vedere quale maschere ho a disposizione e scegli quella che preferisci, d'accordo? Ne ho un po', abbia un po' di pazienza. Partiamo da quelli occhi. Ne ho cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Abbiamo la prima Nourishing Eye Badges per cercare di riempire un pochino le occhiaie, quindi riempire un pochino le borse. Ma direi che non è il tuo caso. Abbiamo Glowing. Questi sono con un estratto con anche oro 24K e appunto aiutano a stimolare la luce sotto gli occhi, quindi per dare un effetto luminoso e riposato. Abbiamo i lifting, quindi per dare un effetto di lift, alzano un pochino. E abbiamo Quelli idratanti, semplicemente. E abbiamo rivitalizzanti, rivitalizzanti aiutano a ridurre il viola sotto gli occhi, anche un po' il gonfiore. Quindi, vi direi che questi sono perfetti per una mattina. Dimmi te, però, posso per mai uscire questi? Te li faccio rivedere. Ok, quando viene questo rivitalizzanti. Allora, come vedi sono due peggiocchi abbastanza grossi. Pieni, 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 pieni di prodotto. Aspetta. Ok. Te ne metto uno alla volta. Alzo un po' gli occhi. Ok. E uno. Aspetta. Alzo l'altro occhio. E l'altro. Ok. Perfetto. Questi li teniamo in posa per un pochino. Le rimetto al loro posto e vado a prendere la maschera, le maschere viso. Sono lì in alto, spero di non fare casino. Sì, come vedi ne ho un po'. Allora. Partiamo. Sono tutte in tessuto. Abbiamo intanto due la pelle, la pelle normale. Allora. Abbiamo tutte queste due maschere viso della Sienna. Una per pelli normali e miste. E una per pelli molto secche. Io quella per pelli molto secche non la propongo neanche perché non è il tuo caso. Quindi andiamo con, se vuoi, idratante e tonificante. Questa è al tè verde. Molto interessante. Poi ho tantissima skin care straniera. La vado in parte coreana. Allora. Allora. Ho questa maschera. Ha il cocco. Quindi idratante. Lenitiva. Questa è fatta da un'azienda locale in Vienna. E... Io mi ho trovata molto bene, devo dire. E ha veramente un odore fortissimo di cocco. Poi. Neutra. Della stessa marca. Cioè, queste tre sono tutte e tre della stessa marca. Questi sono appunto made in Korea. E abbiamo... Bore control. Con... Estratto di uva verde. Che va a giallo. Ma non fa che è troppo carino. Perché guarda. È come se il barattone non escesse. Beh, abbiamo una schiarente. Queste sono con molte vitamine, vitamine C e con l'estratto di agrumi. Queste vanno molto in Asia. Perché molte persone sono fissate. Noi siamo fissati con l'abbronzaggi. Loro con lo schierirsi. E quindi... Buon appetito. Terza di questa marca. Questa iper iper nutriente. E... al melograno e ha proprietà anche anti-rughe interessante questa ti faccio vedere le ultime due che ho ho queste due sempre made in Korea allora queste in realtà te la faccio vedere ma è esfoliante quindi diciamo che dopo andrebbe io la vorrei usare invece al posto del siero questo è più appunto un trattamento magari da fare di sera però guarda che bello e qui dentro appunto ci sono tutte le maschere tutto il prodotto qui dentro ci sono cinque maschere se non sbaglio ti faccio vedere l'altro invece che secondo me è molto carina tipo piacera invece è idratante l'ho vado ad aprire guarda che bello bellissimo il pack è rosa anche all'interno non so se puoi notare proprio anche lì liquida rosa qua non so se puoi ho 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 questo va veramente tantissimo quale ti ispira di più? ok faccio comunque la rose idratante antirughe questo qui è al mio grano va bene? ok no pienissima di prodotto bella densa eccola qua adesso io te l'applico sul viso e poi andrò a pressarla con un rullo ok? a farti un po' di massaggio quindi chiedi gli occhi aspetta un attimo che te l'ha visto bene ok ok tranquillo adesso vado a farla dire bene al tuo viso aspetta un attimo adesso ti tolgo la maschera ok? allora aspetta ok sono venuti via che i due peggio agli sotto come ti senti la pelle ora? bene bene sono contenta adesso prendo un prendo un rullino per viso non vedete come si chiamino e vado e vado aspetta prima voglio fare una cosa sposto la candela dove c'erano le maschere viso mi piace di più lì ok scusa adesso vado adesso vado a farti un massaggio con questo rullo diciamo un pochino liftante e vado anche a farla aderire bene ok 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 anche se noti del viso ok 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 questo momento direi che è fatto abbastanza bene perchè ti aderisce bene al viso non hai troppe roghette diciamo così ok Ok, perfetto. Adesso io vado a prendere tutte le cosine mie che mi servono per truccarti e intanto andiamo a scegliere il trucco che vuoi mentre la maschera sta in posa, ma prima scusami, puro cacao. Questo burro a cacao è molto nutriente e a base di... E poi così, burro di karité. Mi piace molto il suo effetto perché è un pochino rimpolpante. Non è troppo lucido, è quello che indosso su anch'io. E non è troppo lucido. E non lo senti olioso, lo senti semplicemente irritante. Mi si sta rompendo un unghie. Che dispiacere. Non so che casino abbia fatto qui. E non è troppo lucido. E non è troppo lucido. E non è troppo lucido.